Oggi possiamo dire che al funerale del reddito di cittadinanza la Regione Puglia supplisce con la perdurante esistenza del reddito di dignità. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presentando il nuovo reddito di dignità in conferenza stampa a Bari. Per la prima finestra la Regione Puglia investe 15 milioni dei 45 a disposizione in totale per finanziare il nuovo reddito di dignità. In questa nuova misura del reddito, il nuovo bando è stato pubblicato lo scorso 5 dicembre. Il Dipartimento Welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro. Per coprire il più possibile la platea di potenziali destinatari, si procederà con un avviso con graduatoria che prevede finestre temporali di presentazione delle istanze dei cittadini. Si conclude con un nulla di fatto l'Assemblea di Acciaieri d'Italia, che ora si aggiorna all'11 dicembre. Ancora in bilico il futuro dell'ex Silva di Taranto, in stallo tra risorse mancate e precarietà lavorativa. Il nodo maggiore resta Arcelor Mittal, il socio privato, che avrebbe infatti presentato una memoria. I sindacati in sciopero ora auspicano l'intervento del Governo per salvare la più grande acciaieria d'Europa. Termina quest'oggi lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di esercizio dell'area Altiforni dello stabilimento di Taranto, indetto da FinFiom e Wilm per protestare contro la fermata di AFO 2, annunciata dall'azienda per attività di manutenzione. Stop che comporta l'utilizzo del solo alto forno numero 4, essendo fermi anche la FO 1 e la FO 5. Uno sciopero simbolico perché, come spiegato dalla stessa azienda, sono previste comandate specifiche dell'area a caldo al fine di salvaguardare gli impianti e proteggere l'incolumità delle persone. Dunque gli operai sono precettati per tutelare gli impianti e stanno procedendo le operazioni di rallentamento della carica. I sindacati temono che la fermata possa protrarsi oltre i 7-10 giorni indicati dall'azienda, così come è accaduto per l'Alto Forno 1, fermo da agosto scorso. All'indomani della scelta di entrare a far parte dell'organico d'Italia Viva, il sindaco di Taranto, Rinaldo Milucci, rimanda al mittente le critiche e spiega le ragioni alla base. Vogliamo rimettere Taranto e le questioni dell'ex Silva come primarie nell'agenda politica. Poi aggiunge, basta speculazioni, ora bisogna lavorare uniti per il bene della città. Come sapete il PD mi chiama dalla società civile, io non è che vengo da una storia politica strutturata. Devo anche dire una cosa, qualcuno dimentica che Italia Viva era già candidata con noi in coalizione nel 2022, quindi non ci sono particolari novità sul tema. La novità sul tema è che qualcuno specula la libertà di un sindaco di poter fare politica, di cercare motivazioni per propri obiettivi personali, per beghe di partito, ma dobbiamo occuparci della città, ci sono cose importanti e noi non abbiamo smesso un secondo di lavorare per queste cose importanti. Io non capisco perché, devo dire, le segreterie di partito, perché i consiglieri comunali invece fanno il loro lavoro onesto tutti i giorni, sudandosela. Dobbiamo restituire serenità a questa città, smetterla con queste questioni di fazione, di cortile che alla gente non interessano e devo anche dire una cosa, pochi sono stati accorti rispetto a Italia Viva a due particolari importanti in questi giorni. Primo particolare, Matteo Renzi, presidente neoeletto dell'Assemblea Nazionale di Italia Viva, ha dichiarato che certi errori sono stati commessi nei confronti di questa comunità in passato e che bisogna decarbonizzare. Ditemi se non è la strategia sulla quale abbiamo portato anche il PD, anche la Regione Puglia, tutti quanti i nostri alleati, amici e partner in questi anni. E il secondo tema, Rinaldo Milucci entra nella cabina di regia di quel partito per riorientare nella direzione della transizione giusta le politiche di un partito nazionale che comunque sta giocando una partita importante nello scenario italiano ed europeo. A me sembra che questo significhi rimettere Taranto al centro dell'agenda parlamentare, delle agende di governo, dell'agenda europea, attraverso uno spazio che magari per me è più coerente, magari per me è più accessibile, quello che non riuscivo ad esprimere col Partito Democratico. Io ci vedo vantaggi per la comunità, se uno non strumentalizza, non ci vedo complicazioni. Poi se qualcuno vuole complicare perché ha altre cose in testa, faccia pure. Noi dobbiamo lavorare per la città. Sindaco, ma lui si cambia dagli europei? Assolutamente no. Io sono già abbastanza stanco della politica. Si spacca il Partito Democratico di Taranto dopo le dichiarazioni del circolo PD di Talsano sulle recenti posizioni assunte dal sindaco Rinaldo Milucci, ora nel direttivo di Italia Viva. Il capogruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale Ionico, Bianca Bosniacu, conferma il sostegno al primo cittadino. Il PD e il gruppo consigliare confermano l'appoggio al primo cittadino di Taranto, scrive la Bosniacu, fermo restando l'essenziale punto rappresentato dalla necessità di mantenere fede al programma elettorale condiviso dai cittadini. Relativamente alle affermazioni del circolo in questione, ribadisce in dubbio e l'autonomia dei circoli, ma detto ciò è doveroso esprimere il nostro dissenso alla posizione assunta. Nel frattempo, quest'oggi, dal circolo PD Cannata, aggiunge un'ulteriore stoccata. L'adesione di Italia Viva del sindaco Melucci è stato sconcerto ed inquietudine nella comunità democratica, spiegano, fortemente preoccupata per la stabilità dell'amministrazione comunale, che può essere insidiata da dinamiche antagoniste tra forze politiche che perseguono strategie contrapposte. Monsignor Giuseppe Russo è il nuovo arcivescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione in arcivescovado. Ai nostri microfoni, Monsignor Giuseppe Russo e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Questo evento ha un significato importante, anzitutto di tipo ecclesiale. Vale tanto per la Chiesa, per la comunità ecclesiale a cui il vescovo è inviato, ma vale tanto, come tutti noi conosciamo, sappiamo, per il territorio, perché poi il vescovo inevitabilmente si fa portatore di un progetto, un progetto di vita che incrocia i progetti che ci sono, che provengono dalle altre agenzie. Sul territorio c'è innanzitutto il comune, poi c'è più allargando la provincia, la prefettura. Cioè il vescovo, più dei parroci naturalmente, è chiamato a dare un contributo importante, a dialogare e a dare un contributo importante per la crescita del territorio, non soltanto della Chiesa. Prepararsi per la celebrazione del 21 gennaio qui a Taranto di consacrazione, dove insieme alla conferenza episcopale pugliese, ad altri vescovi che verranno, insieme al popolo di Dio tutto, sarà consacrato Monsignor Russo, vescovo. E poi dopo la preparazione perché possa entrare poi in diocesi e iniziare il suo ministero pastorale, episcopale, lì nella diocesi. Questo avverrà l'11 di febbraio. Saranno certamente due momenti molto seguite e soprattutto saranno due momenti molto belli che daranno così l'avvio, invocando il Signore su di Lui e incoraggiandolo con la presenza di tutti al nuovo ministero. Presentato questa mattina al Castello Aragonese di Taranto, il quadro sonoro commissionato al maestro Giovanni Sollima. L'incontro, oltre allo stesso Sollima, sono intervenuti l'amiraglio Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Sud, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il maestro Piero Romano, ideatore del progetto e direttore artistico dell'Aecomagna Grecia e l'assessore allo spettacolo del comune di Taranto Fabiano Marti. Sì, un'iniziativa che va ad arricchire i contenuti culturali del Castello Aragonese, soprattutto a rafforzare quelle che sono le sinergie tra la marina militare e la città di Taranto. Quindi abbiamo da poco inaugurato una nuova mostra di velieri e questo è un ulteriore passo per offrire delle attrattive culturali sempre maggiori ai nostri visitatori. Voi sapete che questa iniziativa dei quadri sonori si sta rinnovando, sta richiamando grande interesse in città, anche da parte dei visitatori, oltre che delle scuole, dei ricercatori. È un momento molto significativo per noi. Io lo raccontavo prima al termine della performance del maestro Solima e dell'Orchestra Magna Grecia, ringraziando anche il maestro Romano e l'amiraglio Biaggi per la collaborazione, la location veramente simbolica e suggestiva per la comunità. Perché? Perché questa modalità di fare cultura non è una modalità teorica, non attiene solo all'estetica, per quanto il momento sia di grande fascino, di grande eleganza. È una modalità sociale, è il racconto a una comunità che può ritrovare bellezza intorno a sé, che può riscoprire le opportunità che è capace di generare, può dare di sé un'immagine nuova, differente all'esterno, all'estero anche, perché chiaramente si inserisce nel quadro delle cose che stiamo facendo a livello internazionale verso i giochi del Mediterraneo, anche con l'orchestra giovanile che continuiamo a sostenere tutti i giorni, insomma, nei suoi sforzi. È un bel momento per la cultura a Taranto, credo che la cultura sia veramente un driver di cambiamento sociale ed economico, non soltanto, come dicevo, un momento estetico e questa sinergia con la Marina Militare oggi al Castello Aragonese lo dimostra. Per me è un'emozione fortissima, voglio dire, è una melodia mia ovviamente, è un tema però che ha delle radici arcaiche, credo molto forti. Io non sono mai riuscito a fare il sopralluogo fisicamente in questo luogo, ma l'ho interiorizzato, idealizzato, studiato su mappa, su carta, poi sono siciliano e ho studiato tutti gli altri castelli aragonesi presenti nell'isola e quindi ovviamente lì ti imbatti una serie di storie. Il luogo è raccontato appunto dall'essere umano poi, da tutto ciò che è avvenuto, quindi questa melodia, come fosse un basso rilievo, viene presentata come se arrivasse da lontano fino a diventare sempre più grande, più elaborata e ovviamente c'è una presenza di ritmo e di tanto altro. Non voglio spoilerare più di tanto però. Il Cossionico Basket scende in campo questa sera al Palamazola contro Andrea Costa Imola per il posticipo del turno infrasettimanale valido per la tredicesima giornata di campionato. Coach Cotignoli spera di recuperare gli assenti della trasferta di Lumezzane, Conte e Reggiani che si sono fatte sentire non solo per l'apporto sul campo ma soprattutto a livello di rotazioni. La squadra romagnola viaggia in una situazione di classifica abbastanza tranquilla e una vittoria potrebbe aprire le porte verso altri obiettivi. Imola può contare sul secondo miglior realizzatore del girone. Il lituano Axi Kalnis è uno dei migliori centri crespi che darà vita ad una sfida interessante nel pitturato con Tiune. Per Taranto sarà importante continuare a mettere in campo la difesa solida mostrata nelle ultime uscite e sfruttare la fisicità a rimbalzo. Palla 2 alle 20. Ancora una settimana di lavoro e presentazioni in casa SD atletico Paolo VI. Questa volta è il turno di Gino Aloisio Tallilli. Oltre 20 anni di esperienza accumulati sul campo messi al servizio del sodalizio del presidente Ricatti. Con il tecnico che si occuperà della categoria Piccoli Amici abbiamo fatto il punto della situazione approfondendo la figura del tecnico educatore. Allora Aloisio noi parliamo sempre di calcio, parliamo di sport, però nel tuo caso il discorso si sdoppia perché tu sei il tecnico, l'allenatore della categoria Piccoli Amici, ovvero bambini del... 17, 18, 19 e 2020. Bambini piccolissimi. Allora la domanda che ti faccio è sei allenatore sicuramente ma sei soprattutto educatore. Sono educatore e poi vengo come istruttore, però la prima cosa siamo sempre educatori tutti quanti a questa età. Quanto è difficile lavorare con i ragazzini così piccoli? Allora con i bambini piccoli piccoli bisogna fare tanto lavoro perché a quell'età sono delle spugne. I bambini apprendono quello che l'istruttore gli dice, bisogna starci dietro. Noi siamo tre istruttori che siamo e a volte non riusciamo neanche a tenerli e a starci dietro perché ne prendi uno e ne scappa un altro. Quindi bisogna stare dietro per dietro e fare un lavoro che poi se lo porteranno avanti nel tempo. Quindi se lavori bene i bambini apprendono, se lavori male il bambino non apprenderà mai nulla. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.